questo episodio dei tre minuti grezzi è dedicato ad angela che angela è una mia nuova ascoltatrice sono particolarmente contenta perché non capita tutti i giorni di avere dei nuovi ascoltatori ascoltatrici dichiarati e angela invece si è dichiarata perché mi ha mandato un messaggio su youtube dove mi ha detto che ha scoperto i tre minuti grezzi e che ora si metterà ad ascoltare grazie angela sono molto contenta che mi abbia scoperto ne ho approfittato perché non capita tutti i giorni di avere dei messaggi mandati dagli ascoltatori e dagli ascoltatrici e mi ha spiegato ho chiesto quindi ma come mi hai trovato e mi ha spiegato che sono comparsa tra le varie proposte che arrivano su youtube perché per chi non lo sapesse questo podcast viene anche pubblicato su youtube in versione originale poi in versione sottotitolata in inglese e sembrerà tenero e ridicolo questo mio questa mia grande eccitazione alla scoperta di una ascoltatrice nuova però pensate che questo è un minuscolo podcast piccoli sono i tre minuti che uso per parlare piccolo è lo spazio che prende anche se angela non è un podcast nuovo questo è il secondo anno questa infatti è la puntata 600 non mi ricordo più che cosa quindi se voglia vai ascoltarti anche un po di catalogo delle degli episodi passati e angela devo anche dirti che proprio in questi giorni riflettevo sul fatto continuo continuo non continuo appunto perché questo è il secondo anno non so se questo podcast se tre minuti grezzi continueranno dopo il 31 dicembre grazie per quello che mi dici dici che c'è bisogno di argomenti quotidiani come li racconto io mi fa molto piacere naturalmente ripeto non ancora deciso ma più no che sì non credo che continuerò dopo il 31 dicembre però ripeto ci sono più di due giorni di seguito che si può ascoltare più di 48 ore di registrato nei tre minuti grezzi quindi volendo ci si possono riempire delle giornate ascoltando il catalogo delle puntate precedenti per il resto ripeto può sembrare non dico patetico però diciamo tenero questo mio grande entusiasmo però non mi capita tutti i giorni purtroppo anzi vi invito mandatemi messaggi perché io parlo butto le mie parole nel lettere del podcast però non so chi li ascolta se qualcuno li ascolta e questo è quello che vi volevo comunicare adesso e come dicevo questa puntata è dedicata a te angela grazie a tutti